Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Sarà, si lavorerà, lo faremo ovviamente accanto a Giorgio Meloni, tentando insomma di dare un contributo frutto di esperienza, ma anche di quel senso di coerenza e appartenenza che ha distinto sempre comunque il mio percorso politico. Vabbè, capisco anche, insomma, nel caso di questa anticipazione bisogna avere calma e sangue freddo.